Ciao a tutti! In questo video voglio partecipare al contest di Lady Cute Cupcake spero di averlo pronunciato giusto una ragazza davvero dolcissima che ha raggiunto il traguardo dei suoi primi tre descritti quindi mi faceva molto molto piacere poter partecipare a questo suo piccolo contest perché penso se li meriti tutti vado a fare vedere le creazioni che ho scelto per partecipare a questo contest e sono principalmente doll e kawaii e niente, ve le faccio vedere immediatamente allora partirei prima dalle dolline vi faccio vedere magari quelle che sono un po' più vecchiotte tra virgolette nel tempo allora vi faccio vedere Chimalai che è una ribelle che avevo fatto parecchio tempo fa ma sono molto affezionata a questa creazione a questa ribelle così con questa catena a pallini rossa e queste due perle poi questa biancaneve con catena nera e perle così in acrilico trasparenti è molto dolce secondo me la trovo molto simpatica poi sempre biancaneve ho fatto anche questo cammeo questo abbastanza recente con catena a pallini molto carino molto semplice così poi sempre doll ho fatto questa che è una damina anche questa è piuttosto recente scusatevi se riesco a districarla ha questa collana in plastica poi qui queste perle questi cristalli e lei è la bambolina ha questi capelli bianchi in mano tiene questo cuore in tipo stile veneziano in vetro soffiato e il vestitino poi un'altra damina montata su questo cameo realizzato sempre da me in fimo con questa collana fatta così con una perla anche un cuoricino e poi l'ultima bambola che è questa che è una sirenetta piccola 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 molto carina allora è montata su questa catena tipo collare diciamo così qua c'è la manina qua ci sono due perline e lei è la topina è montata su questa filigrana è davvero piccina la bambola così molto semplice ma molto simpatica secondo me poi vi mostro un draghetto che ho fatto sempre su catena pallini e questo è appunto il draghetto che mostro con questi anche le sbrillucci e le ultime due creazioni sono a tema kawai allora aiuto mi sta cadendo tutto faccio vedere prima sono praticamente degli onigiri giganti questo qui è fatto a pikachu femminuccia col fiocchetto così è anche tutto texturizzato non so se si vede dal video ma è tutto texturizzato dietro il piatto semplice e l'altro e l'altro è pusheen se per catena pallini per argentata ed è pusheen semplice classico adoro questo pusheen mi piace tantissimo interamente fatti in fimo dagli occhi a tutto quanto ecco queste sono le creazioni che propongo per il tuo contest cara io spero che ti piacciono spero che piacciono anche agli altri nulla un in bocca al lupo a tutti quanti un in bocca al lupo a te per questo traguardo e al prossimo video ciao ciao